questo video è stato gentilmente sponsorizzato da HelloFresh HelloFresh è una box con all'interno tutto l'occorrente per creare a casa dei piatti gustosi e sempre diversi all'interno della box infatti si trovano tutti gli ingredienti freschi e di stagione già porzionati e le schede ricette per creare i piatti scelti il menù di HelloFresh offre nuove 20 ricette ogni settimana tra cui scegliere ci sono sia ricette classiche italiane sia ricette internazionali per provare nuovi sapori e nuove combinazioni in particolare nel box ho scelto tre ricette vegetariane amo HelloFresh perché toglie tutto lo stress di pianificare il pasto infatti devi solo srezzare le ricette ricevi l'occorrente a casa e risparmi anche il tempo di fare la spesa l'abbonamento HelloFresh è senza vincoli e personalizzabile infatti si possono cambiare in base alle proprie esigenze orario e data di consegna un'altra cosa importante è la convenienza i prezzi di HelloFresh non hanno risentito dell'inflazione paghi solo quello che mangi e si riducono anche gli sprechi se vuoi provare HelloFresh ho una buonissima notizia per te infatti cliccando sul link in descrizione e utilizzando il mio codice sconto 50 chiara avrai la prima box a metà prezzo e le successive tre box con il 25% di sconto inoltre sulla prima box la spedizione sarà gratuita non vedo l'ora che proviate questo servizio perché a me piace veramente veramente tanto e la trovo un'offerta perfetta per provare questo servizio e innamorarsene io ringrazio ancora HelloFresh per aver sponsorizzato questo video e passiamo al video ciao grazie di essere qui con me oggi faccio una brevissima, brevissima intro perché vi devo chiedere una cosa è da un po' che sto pensando, pensando di introdurre gli abbonamenti su questo canale però alt, io volevo introdurre gli abbonamenti semplicemente per il fatto che alcune persone mi stanno facendo giustamente notare che nel massimo che ci sia la pubblicità in fondo ai miei video e io lo so, mi dispiace tanto ma come vi ho già detto è una cosa automatica di youtube purtroppo youtube adesso mette in automatico la pubblicità anche in fondo ai video quando riesco a fare sui video più lunghi come lo scorso video che dura 52 minuti però a volte può capitare, mi dispiace molto però vorrei appunto introdurre gli abbonamenti per poter far accedere le persone abbonate ai miei contenuti senza pubblicità quindi nell'inizio e nella fine e appunto caricherei gli stessi miei video ma avreste i miei video senza avere paura di avere la pubblicità in fondo è l'unica soluzione che oggettivamente ho trovato e insomma ditemi se sareste interessati a questa opzione è un'opzione che appunto io in realtà metto perché ho letto di questa esigenza ho letto dell'esigenza magari di avere anche un'opzione in cui non sia la pubblicità alla fine senza magari per forza avere youtube premium comunque appunto non sia pubblicità e quindi fatemi sapere cosa ne pensate siete liberi di quello che volete e però sapetemi dire se potrebbe essere appunto utile per voi se potrebbe essere qualcosa che vi fa piacere avere al prezzo appunto di un cappuccino al mese ecco non di più quindi grazie dell'attenzione mettete mi piace il video se vi piacerà il video e vi lascio subito il video che secondo me è super carino e spero vi piaccia ciao 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 come stai? tutto bene benissimo ne sono contenta anch'io tutto bene dai sono davvero davvero contenta di vederti ecco e mi rende molto molto felice ok allora oggi appunto ho pensato che visto che devi uscire ti volevo fare un piccolo ritocchino al viso quindi ritoccarti il trucco ritoccarti i capelli idratarti un pochino il viso vedo che in realtà sei struccata ok e che hai, non so se ti sei fatta la laminazione sembra che tu abbia il mascara quindi è un bellissimo effetto davvero ti sta benissimo prima di cominciare un pochino a coccolarti 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 volevo offrirti qualcosa da mangiare allora ho questo dolcetto qui per te è un dolcetto alla fragole cioccolato è una parte ricoperta con questa glassa alla fragola e dall'altro con questa glassa al cioccolato veramente buono, delizioso ovviamente ti devono piacere i dolcetti con la fragola ti deve molto piacere perché sa tanto tanto di fragola ecco quindi questa è la prima opzione la seconda opzione è questa con da una parte il cioccolato bianco con queste granelle con queste granelle con queste praline dolci e dall'altra abbiamo alla nozzola quindi cioccolato alla nozzola con crema di nozzola questo per quanto riguarda i miei gusti è un pochino più sfizioso però se ti piace la fragola questo è incredibile quindi ti lascio scegliere con calma ti lascio scegliere con calma dimmi pure dimmi pure dimmi pure ok questo cioccolato e nozzola è perfetto tutto tuo poi dimmi anche se vorrai qualcosa da bere dimmelo quando hai bisogno di bere dimmelo assolutamente ok partiamo dalla skin care e pensavo di farti di darti un po' sul viso un siero che a me piace tanto 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 e si un siero etratante un siero anche illuminante mi piace molto ma prima volevo farti fare una maschera in tessuto la prendo e ti faccio scegliere in realtà sono tutte uguali cambia semplicemente il colore quindi dimmi se la preferisci dimmi se la preferisci rosa verde questo verde molto intenso bianca bianca o gialla gialla? ok allora adesso lascio mi spostare un attimo i miei capelli ok e ti applico la maschera aspetta 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 ok benissimo ti accomoda d'accordo queste altre le metto via e intanto e intanto se posso pensavo di pettinarti un attimo i capelli e piastrarti i capelli diciamo sistemarteli abbastanza abbastanza velocemente giusto il tempo 5 minuti insomma che la maschera faccia effetto si si deve stare in posa veramente poco pazzesca prima di piastrarli ovviamente 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 metto un po' di termoprotettore vado a sbruzzartelo sui capelli ok ti copro un po' gli occhi no non ti preoccupi anche un po' dietro ok li vado a pettinare ci siamo io adesso vado ad usare questa piastra si si non è completamente sicuro anche usarla senza protezione mani perchè il calore veramente è solo 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 all'interno anche a me piace tanto questo design minimal cosa vuoi intanto raccontami come va? cosa farai in questi giorni di vacanze nel caso tu faccia delle vacanze se approfitterai di uno di questi punti o se starei semplicemente a caso magari riposati giustamente si è senza fili è già caldo ok allora vado a prenderti delle zocche o se e questo è un po' di solipunte anche è rilassante? No, sono contenta, tu ti stai rilassando davvero dormire di tanto io direi che ci siamo, sono veramente belli, sì sì, erano già appunto in ordine però mi piaceva un attimo renderli appunto un po' più lisci, darli un pochino più di intenzionalità ecco come i miei ecco, nulla di esagerato però volevo un attimo perfezionarli anche se stavi già benissimo benissimo così eh, assolutamente ora ti vado a togliere la maschera com'è la pelle? come te la senti? meglio eh? ok sì sì, sono d'accordo e adesso prima di partire un pochino con il make up vado a metterti anche un diciamo stiero crema per concludere un po' la skin care, è un stiero molto molto idratante l'acchampsè ve lo faccio vedere e adesso ne vado a mettere giusto due o tre gozzi ok sul tuo viso e dopo lo vado a distribuire e anche due goccine sul collo ci tenevo a metterlo sul collo anche perchè è molto importante applicare la skincare anche sul collo e in realtà anche su appunto il petto, non so come dire, azionate i coltè perchè la pelle tende tenderà dopo un po' ad assottigliarsi e a un po' cedere e faccio movimenti verso l'alto ok? ok 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 molto bene benissimo adesso io volevo farti un look in realtà veramente molto 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 semplice volevo giusto metterti un pochino di mascara, matita giusto a poco poco blush e un po' di balsamo colorato d'accordo? ok lascia che si veda insomma la tua bellezza naturale ovvio ognuno si può truccare come vuole però secondo me a te donano particolarmente i trucchi naturali io so che ti piacciono anche su di te ok allora vado prima di tutto a mettere in realtà questo balm è colorato perchè noto che le tue labbra sono un pochino secche quindi da un boost di idratazione e poi magari dopo alla fine andiamo a riapplicarlo ok? ok 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 mi avvicino mi avvicino mi avvicino un attimino rilassa le labbra ok benissimo e senti che si è molto morbido, burroso, super idratante e il colore e il colore non è così forte ok ok benissimo ok vado a metterti un po' di blush vado a metterti un po' di blush anche di quest'occhio un po' di blush anche sugli occhi anche sugli occhi così che di quest'altro ok in modo molto molto semplice si lo trovo delizioso si lo trovo delizioso non e non a tra l'altro io doro questi pecchi in legno ok andiamo a mettere un po' di matita io pensavo di mettertela un pochino come me la sono messa io quindi a mo' di un po' il liner un po' sfumata cosa ne dici? la vuoi anche un po' all'interno o solo sulla palpebra? ok allora chiudi bene quest'odio e non lo muovere ok? cerca di muoverlo pochissimo e io vado sono accorta ora che tipo ho una crosticina qui sembra molto undici ok allora vado in modo molto delicato apri l'occhio ti sta benissimo poi con questa laminazione no sta troppo bene ti allunga tanto l'occhio in modo elegante che bello ok allora chiudi quest'occhio adesso? ok 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 allungare leggermente apri gli occhi tutte e due che meraviglia dai proprio che non dovresti farti questo trucco più spesso se ti va ovviamente adesso io metterei giusto appunto un po' di mascara non esagerando perché appunto già hai delle belle ciglia però un po' di mascara ci sta sempre sì ma quanto è carina tutta questa collezione rosa non è vero tu hai un po' di eccesso? ok ultimissimo 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 step un po' di profumo questo è un profumo molto particolare che in realtà ho preso in una profumeria un po' di nicchia non costava tanto però devo dire che non saprei neanche dove e come recuperarlo non c'è scritto neanche il nome però è veramente buono te lo faccio sentire nel caso non ti piaccia lo cambiamo non l'uso bene? si è veramente dolce ma non troppo leggermente speziato fresco buono secondo me buono 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 un po' floreale mi piace tanto te ne metto un po' sul collo dammi i comiti dammi i polsi e un po' anche dietro le orecchie ok? perfetto io direi che qui abbiamo finito spero davvero che ti sei rilassata rilassato hai fatto bene a venire da me e mi ha fatto piacere anche che mi raccontassi un po' di come va ok? sicuramente comunque magari vediamoci più spesso insomma dovremo trovare di più l'occasione per trovarci e rilassarci un po' insieme ok? bene allora io ti mando un bazzone e ti aspetto che hai presto d'accordo buona serata buona uscita divertiti tanto ciao buona serata